Abbiamo visto le potenzialità dei localizzatori quando si tratta di individuare le sonde, sonde remote oppure telecamere, però le esigenze della localizzazione sono anche altre, quindi quando in particolare sono quelle di individuare, di tracciare dei sottoservizi, tubazioni elettriche, tubazioni telefoniche, cavi metallici, tubi metallici in generale e perché no anche lo stesso cavo della telecamera, quindi io quando traccio, quando faccio una video ispezione posso avere la necessità non solamente di individuare il punto in cui si trova la telecamera, bensì tracciare tutto il percorso che io ho fatto. Per far questo è indispensabile disporre di quello che Rigid chiama un trasmettitore di segnale. Qui abbiamo il modello ST510, sono disponibili altri due modelli, questo è il modello medio. In cosa consiste? Consiste proprio in un trasformatore che attraverso queste due pinze manda un segnale elettrico che ovviamente va sincronizzato con, la cui frequenza va sincronizzata con lo strumento, con il localizzatore. Quindi questo trasmettitore crea un circuito tra la linea che io vado a mettere in tensione direttamente con una di queste due pinze, con la terra, quindi con la tubazione che io devo andare a localizzare. Come funziona? Praticamente sono varie le modalità, io se ho una tubazione elettrica posso pinzare con questo morsetto la tubazione elettrica, con il secondo morsetto e utilizzando questo picchetto io dovrò andare a piantare sul terreno, vado a fare la messa a terra, no? Quindi imposto sul localizzatore la frequenza, però devo cambiare modalità, non più modalità sonda, bensì modalità induttiva. Ecco, in questo caso io ho impostato la frequenza a 1 kHz oppure a 8 kHz. In questo caso ecco, io non ho nessuna linea, non ho messo in tensione nessuna linea, andremo dopo a fare una prova in esterna, però il concetto qual è? Io ho una linea che sto cercando, la metto in tensione e con il localizzatore vado a cercare il segnale di questa linea e la sua profondità.